Questo video riguarda i migliori tre tappi orecchie per piscina. Il vincitore della qualità è l'Air Protect tappi. Questi tappi per le orecchie di forma specializzata li aiutano da un sigillo ad acqua e a tenuta d'aria nel tuo orecchio per mantenere l'acqua di penetrare il tuo canale dell'orecchio. Viene fornito con due paia di spine in dimensioni diverse, piccole per canali dell'orecchio di piccole dimensioni e grandi per canali dell'orecchio medio a grandi. Con tre colori vivaci disponibili e squisita qualità del mestiere, ti fa risaltare identificabile se hai o meno i tappi per le orecchie nelle orecchie o meno. Realizzato in silicone morbido che è morbido e confortevole da inserire nelle orecchie e indossare tutto il giorno. I nostri tappi di nuoto sono di alta qualità, riutilizzabili e lavabili con notevole durabilità e durata di vita. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è l'Air Protect Orecchie. Progettato appositamente per i bambini di età compresa tra 3 e 6 anni, con forma ergonomica e aderente al profilo dell'orecchio. Realizzati in silicone di alta qualità che è estremamente morbido e confortevole, sono progettati per adattarsi ai canali auricolari più piccoli in modo che il tuo bambino non si preoccupi di indossarli. Chiunque può indossarlo comodamente, anche i bambini possono farlo. Questi tappi da nuoto possono essere riutilizzati più volte perché sono molto resistenti e sono totalmente lavabili. Tutto ciò che devi fare è risciacquare e asciugare dopo ogni utilizzo. I tappi per le orecchie presentano uno spazio vuoto o uno spazio vuoto al loro interno che aiuta a ridurre al minimo le interruzioni dell'udito, specialmente durante il nuoto in modo che i bambini possano ancora facilmente ascoltare le istruzioni degli insegnanti di nuoto. Il vincitore del premio è l'ATUF Tappi. Realizzati in morbido silicone, i tappi per le orecchie modellabili sono leggeri e comodi da indossare anche per un'intera giornata, che sono anche riutilizzabili, basta pulirli regolarmente e lasciarli asciugare naturalmente per un uso futuro. I tappi per le orecchie con cancellazione del rumore sono progettati per adattarsi al condotto uditivo senza fare alcuna pressione, adatti sia per adulti che per bambini. I tappi per le orecchie impermeabili hanno buone prestazioni di riduzione del rumore, attutendo il rumore da cantiere, concerti o traffico in modo da poter avere un ambiente migliore per dormire o studiare. I tappi per le orecchie in silicone morbido per dormire in profondità creano una comoda barriera personalizzata al rumore. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.